Grazie a tutti Ci si diverte? Si diverte, bella storia E vi fate conoscere anche? Ma dopo 20 anni diciamo che se non ci hanno conosciuto è meglio così Se vi volessimo vedere un sito internet oppure Facebook? Sì, MySpace, Cane Bianco MySpace, Cane Bianco MySpace, Cane Bianco.it Ok, grazie mille Prego E con noi sempre del Cane Bianco c'è Luigi e... Francesco No, Mandetta invece... Francesco Francesco, ecco, infatti io non volevo sbagliare Voi cosa fate nel gruppo? Allora io sono bassista Batterista, cori anche e via Insomma Il ragù, il ragù di... Un po' Ci dicono il ragù che cucini bene Il coco Sì, qualcosa dai, ci saranno a fare via dai, non c'è nessun problema Grosso modo Allora perfetto Bene, grazie Grazie a te 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 Grazie a tutti